Somme di denaro per sostenere esigenze personali e familiari estranee alle finalità e la funzionalità della Lega Nord. È tutto scritto nel rapporto lungo più di 200 pagine, stirato dai carabinieri del Noe di Roma. Ci sono nomi e cognomi e le accuse che inchioderebbero Bossi e i suoi familiari Rosimauro e il tesoriere Belzito. Compara anche il nome di Roberto Calderoli, ma l'ex ministro afferma di aver ricevuto denari solo per coprire le spese vive della sua attività politica. Gli inquirenti la descrivono come un'architettura criminale complessa, con operazioni di riciclaggio effettuate contando sulle disponibilità della cassaforte della Lega. Nel rapporto ci sono le intercettazioni, quelle della segretaria De Grada, che parla con il tesoriere Belzito. La loro paura è quella che Roberto Castelli, dopo lo scandalo Tanzania, voglia vederci chiaro e scopra i loro traffici. Lo prendono in giro e lo chiamano il salvatore della patria. Insieme a lui anche Stiffoni vuole rivedere i conti. Allora Belzito e La De Grada pensano di fare pressione su Manuela, la moglie di Bossi, e su Rosimauro. Per loro ci sono 500.000 euro da giustificare. Su tutti si staglia la figura del capo, come lo chiamano tutti, che sembrano non avere idea del cumulo di spese verso la sua famiglia. Belzito e La De Grada parlano dei soldi per il terrazzo di Gemonio, per il dentista dell'ultimo genito Eridano Sirio, delle macchine di Renzo e delle sue conoscenze. Peggio di Cosentino, dicono, è dovuto intervenire tante volte, anche Silvio girava in macchina con la paletta.